Oggi parliamo di Dream Scenario. Dream Scenario è un film di Christopher Borli, regista norvegese, che ha diretto anche il film Seek of Myself, che trovate sempre sul mio canale YouTube. Innanzitutto la cosa che mi ha colpito di questo film, che uscirà il 16 novembre al cinema, con Nicolas Cage, è che c'è una sorta di continuità di temi che hanno a che fare con la psicologia delle persone, i comportamenti sociali e come influiscono con la vita delle persone. Questo mi ha riportato alla mente un regista non troppo lontano da Borli, un po' più vecchio di lui, che è Ruben Onslud, di cui ho fatto la recensione qualche tempo fa di Triangle of Sadness. I due registi sembrano quasi parti di una corrente cinematografica, cioè entrambi sono affascinati da situazioni sociali, comportamenti personali e interazioni varie tra i soggetti, soprattutto in ambito moderno, quindi quando ci sono di mezzo social, cellulari e vari elementi che riguardano proprio la nostra contemporaneità. In questo film vediamo Nicolas Cage interpretare un padre di famiglia con due ragazzine e una moglie, un uomo noioso, un uomo noioso, un uomo anche buono, un medium man, non troppo amato dai suoi amici, non viene invitato alle feste, alle cene, non viene invitato, insomma viene malcagato un po' da tutti, è un insegnante, insoddisfatto che non ha mai avuto il coraggio di fare cose, eccetera, e a un certo punto si rende conto che tutte le persone intorno a lui iniziano a sognarlo, anche le persone che non lo conoscono. E questa cosa fa di lui in breve tempo una star, una star come se fosse una star del web che mi viene in mente per esempio quell'addetto alla security che fa delle facce durante il concerto di un cantante e queste facce chiaramente fanno molto ridere le persone e quindi lui diventa un meme e diventa molto famoso senza aver fatto assolutamente niente. Ecco, questa associazione è molto importante in questo film e lo scoprirete nel film non ve lo posso dire io perché sennò sarebbe spoiler. quindi grazie ai sogni lui diventa famosissimo. Tutti vogliono farsi la foto con lui, tutti vogliono, a quel punto le sue lezioni sono piene di gente, tutti vogliono conoscerlo e arrivano anche imprenditori che vogliono avere trasformarlo in una sorta di personaggio pubblico che fa pubblicità, insomma, che è una persona che soffre molto del fatto di non essere popolare, di non essere benvoluto ma comunque insomma ci convive con questa roba. Nel momento in cui diventa famoso si trova travolto da una serie di eventi purtroppo però a un certo punto per una ragione che scoprirete poi nel film non è chiarissima dovrete percepirla da voi a un certo punto i sogni di queste persone lui nei sogni non fa niente lui appare ed è inattivo cioè lui passa c'è una ragazza magari che sogna appunto come vedete nel trailer di essere circondata da coccodrilli in una stanza con un pianoforte lei sopra il pianoforte insomma queste situazioni un po' surreali lui passa guarda e se ne va e si stupisce lui del fatto di essere sempre inattivo nei sogni della gente allora chiede in giro ma nel tuo sogno ho fatto qualcosa nel tuo sogno ho fatto qualcosa a un certo punto lui farà qualcosa nella vita reale e i sogni delle persone inizieranno a cambiare e tutto diventerà da bello a qualcos'altro allora il film è un film che fa ridere fa ridere ha un umorismo molto particolare rispetto a Sick of Myself che anche quello aveva umorismo ma era un film molto più duro molto più violento perché c'era comunque ci sono delle scene di malattia di abbastanza pesanti questo è un film con un'ironia particolare comunque un film norvegese quindi anche se gli attori appunto è recitato in inglese poi c'è Nicolas Cage insomma che lo rende anche un film un po' più mainstream ma non lo è in realtà è un film molto molto fuori dal comune così fuori dal comune che non non so quanti riusciranno ad apprezzarlo nella sua totalità perché Borli il regista non ha nessuna intenzione di fare un film che lasci vi lasci insomma qualcosa di una sensazione positiva dentro non è il suo scopo il suo scopo non è farvi divertire il suo scopo è farvi vedere qualcosa farvi metter luce su su certe dinamiche poi all'interno ci saranno anche delle idee che purtroppo vorrei tanto parlarvele ma sarebbe veramente un peccato spoilerarvele delle idee che riguardano il mondo dei social il mondo della comunicazione di oggi però appunto il suo obiettivo non è darvi una storia piacevole con lieto fine eccetera ma lasciarvi sconcertati con un filo di amarezza anche ma vi farà anche ridere vi farà vi farà ridere e vi farà vedere forse uno dei migliori Nicolas Cage che io abbia mai visto diciamo dall'epoca attuale in cui è più grande non parliamo degli inizi qua abbiamo Nicolas Cage molto molto grande molto maturo dove riesce veramente a portare un personaggio che ha un'identità sua c'è poco Cage in questo padre di famiglia è veramente stato capace di trasformarsi e di creare un personaggio realistico ci sono dei temi all'interno del film uno di questi è il tema della popolarità la popolarità come è vissuta oggi una popolarità che ti trasforma in una persona popolare dall'oggi al domani rispetto al passato in cui magari dovevi quantomeno che ne so pubblicare un disco fare un film e ci voleva qualche giorno una settimana due un anno due anni per diventare una persona famosa a livello mondiale invece in questo film proprio per questa particolarità lui si trova ad essere famosissimo dal giorno alla notte insomma da un giorno all'altro e nello stesso modo si trova ad essere amato tantissimo e ad essere subito dopo non amato diciamo uno scenario piuttosto distopico spaventoso perché ti dà la sensazione che di non avere il controllo non ha il controllo lui non ha il controllo della sua vita nel momento in cui le persone iniziano a sognarlo lui non è più in grado di avere un'identità di avere controllo sulla sua identità sociale la sua identità sociale non esiste più esiste solo quello che le persone sognano che è un po' anche la rappresentazione dell'essere famosi se tu diventi famoso per qualcosa sei in balia sei in mano ai media al pensiero della gente al linciaggio oppure all'osannazione senza controllo allora il film di per sé non è un film che mostra virtuosismi cinematografici anzi è un film asciutto come lo era come lo era Seek of Myself come lo sono anche abbastanza i film di Oslo come lo sono molti film insomma di queste zone diciamo non che necessariamente siano tutti così questo è un film che si concentra molto molto sulla psicologia dei personaggi sui dialoghi anche se devo dire che è diretto molto bene e ci sono anche delle belle delle scene le scene oniriche le scene dei sogni sono belle sono divertenti e un po' tutto il film ti dà quasi la sensazione di essere in un sogno anche tu e un po' la paura poi la paura alla fine del film di andare a casa mettersi nel letto e sognare Nicolas Cage un po' ce l'hai alla fine alla fine del film e bisogna poi vedere quale Nicolas Cage sognerai perché alcuni alcuni di questi sono abbastanza inquietanti mi piacerebbe parlare di più di quello che c'è dietro al finale e a una serie di dinamiche che ci sono all'interno del film però ve lo rovinerei sono dell'idea che questo film piacerà più alle persone che hanno voglia di vedere qualcosa di strano che al contempo esplora le dinamiche sociali la psicologia dei personaggi piuttosto che chi vuole vedere un film che ha una struttura canonica quindi un inizio una fine un lieto fine o anche non un lieto fine ma con il ritmo che si aspetta da un film mainstream questo non è un film così è un film che fa un po' quello che vuole anche un po' poetico che sul finale rallenta un pochino e per cui potrebbe in qualche modo infastidire questa cosa a me è piaciuto parecchio l'ho trovata anche molto bello e poetico in certi momenti probabilmente mi è piaciuto di più perché il tema era più forte perché era un tema anche molto estremo quello di Seek of Myself quindi mi ha colpito molto in questo caso però mi ha colpito tantissimo la recitazione di Nicolas Cage che mi ha veramente mostrato un personaggio che mi sembra vero mi sembra reale cioè non ho mai la sensazione che sia un personaggio costruito che dietro ci sia un attore cioè lui sembra veramente una una persona esistente e quindi mi è piaciuto mi è piaciuto perché lo trovo interessante non tanto perché lo trovo un film esteticamente virtuoso o bello cinematograficamente lo trovo un film molto interessante per come esplora certe tematiche e certe dinamiche psicologiche grazie a tutti Grazie a tutti